La parola della sostenibilità per Rekit è Purpose. Purpose perché ci definiamo una azienda trainata da uno scopo che è quello di creare un mondo più sano e più pulito. E lo facciamo attraverso la nostra battaglia, che attraverso i nostri prodotti è quella di rendere l'accesso ai più alti standard di igiene un diritto per tutti e non un beneficio per pochi.